La società romana era fortemente legata alla terra. L'agricoltura era l'attività economica principale in età arcaica, ma continuò ad esserlo anche nella tarda repubblica e in età imperiale. Non stupisce quindi che la prima opera in prosa della letteratura latina di cui abbiamo notizia sia un trattato sull'agricoltura. Si tratta del De Agricultura di Marco Porcio Catone, il censore, una figura chiave nella storia della res pubblica tra il III e il II secolo a.C. Il De Agricultura è una sorta di manuale o guida in cui Catone dispensa una serie di precetti o istruzioni utili al proprietario di una villa rustica, una sorta di azienda agricola di media estensione, amministrata non da lui direttamente, ma da un fattore, il Vilicus. Come deve comportarsi il Vilicus, cioè il fattore, l'amministratore dell'azienda agricola secondo Catone? Vilicus sua, servet diligenter. Il fattore, Vilicus, custodisca, servet, attentamente, diligenter, le sue cose, sua. Dunque, stia attento alla sua proprietà. Alienis, sottinteso rebus, manus abstineat. Tenga lontano, abstineat, le mani, manus, dai beni altrui. Alienis. Non sia né sit ambulator. Uno che passeggi alla lettera, cioè non sia uno sfaccendato. Sobrius sit semper. Sia sit semper, sempre. Sobrius, sobrio. Segetem né defraudet. Non trascuri né defraudet il campo. Segetem.